Buongiorno Batavia, questo è il canale di notizie di SGK. Questo finisettemana il tempo è nuvoloso e coperto. Ma non è terribile. La temperatura più calda questo finisettemana è di 56 gradi. La temperatura più calda questo finisettemana è di 42 gradi. Non c'è possibilità di pioggia, ma c'è possibilità di vento. In altre parole, fa brutto tempo. Ora abbiamo un esperto sanitario e un locale di Vitavia. Sono pronti a prepararci per un grande finisettemana, nonostante il tempo. Grazie! Ciao, sono una dottoressa. Il tempo freddo è nuvoloso di questa settimana poi. Fate ammalare? Voi state potere al caldo indossando una gica? Tu deve stare attivo quando fa freddo. Il yoga in te può essere un buon modo per essere attivo quando fa freddo. Non impote il tempo. Non dimenticare di rimanere il dritto. Grazie! Ora, ecco Gianna. Ciao! 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 Signore e signori! Buona giornata! Ciao! 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 Ciao!